Eccolo dietro la console, il magico, il numero uno, l'invidiabile e il The Best, la musica è migliore, il sound è migliore, è con noi al Summer Festival, a World Festival on the Beach, Mr. DJ Claudio Coccoluto! Il nostro corso di QTSS un applauso a Traglio Contoluto e questa sera qui con noi al Summer Festival live e rigorosamente da vivo per la città di Palermo per la Sicilia Thomas 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 Thomas